Terrore. Terrore. Questa notte la terra ha tremato. Paesi distrutti. Morte. Gente senza vita sotto ammassi di case. Ormai distrutte. Gente sfollata senza un tetto. Una casa, una famiglia. Gente distrutta. Terrore questa notte. La terra ha tremato. In segno di ribellione. Troppa distruzione. Rivoluzione. La natura si ribella. Ed io mi fermo, immobile, a riflettere. Mi sento impotente. Vorrei essere un supereroe. Percorrere. Soccorrere. Liberare coloro che ancora respirano sotto le macerie. Orrore. Oh mio Dio, no. Almeno tu fai qualcosa. Sono impotente. Vorrei gridare, sorreggere. Ma sono impotente. E non mi resta che pregare. Pregare. Ed amare. No. E non mi resta che faccia. Oh mio Dio, no. Oh mio Dio. Non mi resta che...